ciao amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo questo video è stato caricato su tiktok da questa ragazza il filmato mostra la ragazza mentre infila la punta dei suoi capelli nella bocca del pupazzo seppur priva di ingranaggi per aprire o chiudere la bocca la bambola comincia a ingoiare i capelli della ragazza che spaventata non può far altro che tentare di liberarsi in tutti i modi il filmato è davvero inquietante comunque andiamo ad analizzare bene il documento all'inizio sembra tutto uno scherzo dopo ciò la ragazza passa dal sorriso al terrore e anche dal suo sguardo si comprende che la ragazza è davvero spaventata in una strada in messico una telecamera di sicurezza installata su di una strada riprende uno strano oggetto passare lì vicino oggetto che non sembra essere nulla di materiale il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento e bocca di rischio mi nonostante ma andiamo a guardare il documento Grazie a tutti. Il prossimo filmato è stato ripreso da una telecamera di sicurezza installata su di una strada. Il video mostra un evento paranormale davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scoppia un incendio vicino ad una casa e dalle fiamme si materializza quello che sembra essere lo spirito di una bambina che attraversa tranquillamente le fiamme senza avere nessun danno. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.